Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof.ste, e in questo breve video voglio mostrarvi tutte le novità che da oggi permetteranno a chi segue me personalmente e più in generale il metodo Prof.ste di farlo in modo ancora più efficace. Innanzitutto e come sempre vi ricordo le tante iniziative gratuite che potete seguire dal sito nel capitolo qui a lato tra i post in evidenza dedicato appunto ai corsi trading gratuiti. Accanto a questi ci sono altri corsi sempre gratuiti che tendo a consigliare e poi via via avrete modo di seguire come sempre tutte le novità da questa barra laterale. Tra l'altro vi ricordo a tutti coloro che non sono molto pratici di quello che è il metodo Prof.ste e tutto quello che implica seguirlo, impararlo e apprenderlo che sulla barra laterale avete una serie di post che vi guidano appunto all'apprendimento, solo all'approfondimento delle tematiche proposte appunto con il metodo e in particolare in questo riquadro, prima volta su Prof.ste, poi proseguendo in basso avete anche i post a non perdere e tutto l'archivio di ciò che è stato pubblicato in questo spazio. Per quanto riguarda gli aggiornamenti intraday, fatti, a mercati aperti, sempre con indicazioni basate appunto sul metodo che io stesso seguo per primo che è appunto il metodo Prof.ste, sapete che da anni, siamo già a sei anni, su Twitter quotidianamente o quasi sempre secondo gli impegni vengono pubblicate da me e da molte persone che contribuiscono appunto alla stessa diffusione, se volete anche, di quello che è il metodo Prof.ste si pubblicano commenti e quant'altro su quello che accade sui mercati e in generale leggendolo un po' con gli occhiali in un'ottica appunto di metodo Prof.ste Ecco, la novità da oggi è che la Facebook page, la fan page Prof.ste ridiventerà un pochino il fulcro di tutto quello che è il metodo Prof.ste e questo perché? Perché negli ultimi mesi Facebook ha aggiunto tutta una serie di funzionalità anche a coloro che hanno appunto la fan page, la pagina chiamiamola aziendale o comunque la pagina che può riguardare un prodotto, un'azienda, un'attività come la pagina Prof.ste stessa che permette appunto agli amministratori della pagina di avere tutta una serie di strumenti che rendono la stessa molto flessibile e molto adatta I miglioramenti dal senso sono stati moltissimi e quindi come sempre adeguandoci a quello che la tecnologia ci offre ritengo che oggi i tempi siano sufficientemente maturi per spostare, diciamo così, la principale fonte di tutte le informazioni accanto al sito sulla pagina Facebook Prof.ste, quindi voi potete andare a cercare Prof.ste appunto nella barra di ricerca atterrerete su questa pagina, appunto la pagina Prof.ste che molti di voi già seguono e conoscono facendo like riceverete automaticamente tutti gli aggiornamenti che posto e posterò sulla pagina stessa Che cosa succede a questo punto? La possibilità nuova e più grossa è quella di potermi inviare dei messaggi diretti quindi avere una connessione diretta con me semplicemente cliccando su messaggio e accedendo appunto a quelli che sono i messaggi che potrete inviarmi direttamente parallelamente poi Facebook consente, non da oggi certamente, di avere dei post un pochino più lunghi per quello che riguardano i mercati come vedete il post non è limitato dai 140 caratteri di Twitter consente quindi delle riflessioni un pochino più approfondite e poi consente a voi di commentare direttamente qui sotto e anche innescando un dibattito che come sempre tenderà ad essere costruttivo per degli approfondimenti dei commenti e quant'altro su quella che è appunto la tendenzialmente situazione dei mercati o tutto quello che viene postato appunto su questa pagina ancora il modo di raccogliere il mio commento e poi sotto i vostri commenti consentirà di seguire un pochino più efficientemente ed efficacemente quello che viene pubblicato e che riguarda appunto prevalentemente il trading sul metodo profste con il metodo profste e la lettura dei mercati con lo stesso quindi sicuramente cercheremo di sfruttare in maniera più approfondita e sempre dal punto di vista didattico gli strumenti che appunto Facebook oggi ci fornisce ancora Twitter non viene dimenticato perché come vedete ho collegato la pagina Facebook profste a Twitter quindi tutti e i tanti follower di Twitter continueranno a ricevere in aggiornamento in tempo reale tutti gli aggiornamenti e se vorranno poi approfondire visto che spesso andremo oltre i 144 di Twitter potranno cliccare semplicemente sul link e verranno riportati alla pagina Facebook per poter leggere il commento completo sia il mio e sia gli eventuali vostri contributi che potete ripeto scrivere qua sotto sicuramente quindi queste novità porteranno ad un ulteriore miglioramento della didattica e del metodo profste in generale consentendo a tutti di se lo vogliono ovviamente approfondire queste tematiche e il fatto di commentare in tempo reale che dal 2006 è chiaro a fasi alterne perché bisogna sempre un po' tener conto degli impegni ma ogni volta che è possibile mi permette appunto di fare un commento su quello che riguardano i mercati sempre in una lettura ripeto molto molto incentrata sul metodo e quant'altro detto questo voglio ringraziare tutte le nuove persone che hanno fatto like proprio ultimamente in queste ore sulla pagina Facebook oltre alle tante che c'erano invitarvi quindi a seguirmi sul blog come tradizionalmente avviene sulla pagina Facebook che comunque per chi ritiene ancora Twitter la propria principale fonte di informazione non verrà assolutamente abbandonato perché ripeto i post della pagina Facebook verranno replicati tali e quali come sempre su Twitter quindi di nuovo grazie a tutti e ancora mi raccomando seguite i tanti appuntamenti che hanno iniziato e continueranno questo anno così denso di novità sia dal punto di vista mercati perché vediamo che i mercati sono fortemente in subbuglio e sia per quanto riguarda tutta la didattica prof.se e tutti gli appuntamenti che ripeto dal sito e comunque dalla pagina Facebook e da Twitter potrete come sempre seguire grazie a tutti